Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze e Scandici e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sempre in A1, ma in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze e Sud in Cisareggiello. Ancora verso Roma, un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 254 tra Roncobilaccio e Aglio. In A12 si segnalano rallentamenti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova e tra Sarzana e Massa in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!